ciao a tutti oggi andremo a realizzare questo alberello all'uncinetto il materiale che occorre è cotone numero 5 verde scuro verde chiaro blu giallo senepe bianco e marrone delle perline per ornamento io alla fine ho messo anche dei fiocchi col nastro forbici uncinetto 1,50 ago da lana ovatta e colla a caldo vi lascio il tutorial il tutorial questa volta non sarà parlato ma sarà tutto tramite foto se avete qualche difficoltà potete scrivermi vi risponderò grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dopo aver fatto tutte le stelle io le chiamo così andiamo ad unire base base uno con dei punti bassi e imbottiamo dobbiamo fare così con tutte le altre stelle quindi base base 1 poi andremo unire e imbottire base 2 base 3 4 5 e 6 ci vediamo alla fine dopo aver fatto tutte le stelle le basi dopo aver applicato io le cucite perline e fiocchi adesso vi mostro l'assemblaggio innanzitutto voglio dire che le due stelle che ho attaccato con delle maglie basse vedete io una punta l'ho lasciata libera in modo tale che qui entri a base 6 in questo modo ma incastro vedete adesso io metterò una base io ho un cerchio di legno qui così il nostro alberello diventa un po più stabile mi piace mi piace Non mi preoccupate se mi incolate un po' le mani, però non fa niente. Una volta asciugato, giriamo, prendiamo il nostro stecchino, lo infiliamo nel buco, lo facciamo scendere un po' e infiliamo gli altri pezzi. Facciamo riuscire tutti dal buchino. E' un lavoraccio, ma il fine giustificherà i mezzi. Ce l'abbiamo fatta. Anche queste stelle, poi, tra di loro, andremo a mettere un po' di colla qui. E infine mettiamo la sterlina. Il nostro albarello è pronto. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al prossimo tutorial.